Grecia, il tempo passa, i debiti si accumulano, il negoziato tecnico è saltato e anche il confronto ai massimi livelli politici non vede la luce. Il TTIP manda socialisti e popolari nel caos, rimandato all'ultimo secondo il voto sul parere del Parlamento europeo. Summit fra Unione Europea, America Latina e Caraibi, molti impegni economici ma poco coraggio politico. Si arenano di nuovo i negoziati tecnici sulla Grecia e anche quelli politici stentano a procedere. Giovedì l'ennesimo incontro tra il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker e il premier greco Alexis Tsipras non ha portato a niente. Anzi, alla fine i tecnici del Fondo Monetario Internazionale e quelli greci hanno lasciato Bruxelles perché non c'è accordo su nulla. I ministri delle finanze hanno già fallito e sono stati esautorati. La Commissione brancola nel buio di proposte, offerte e ricevute che sono sempre bocciate. Spostare il confronto al massimo livello politico come ha tentato di fare Angela Merkel non è servito ancora a nulla se non a tenere aperto uno spiraglio di dialogo. Intanto Atene vede crollare il suo rating e commenti e previsioni scommettono su quando l'economia ellenica collasserà. Gli incontri di Tsipras con Juncker, con Angela Merkel e François Hollande portano solo a frasi come collocchio amichevole oppure andiamo avanti e troveremo la soluzione. Sembra una gara a chi molla per ultimo. Intanto il tempo passa, i debiti si accumulano e i nuovi soldi per la Grecia sono congelati nelle casse dei creditori. Portare il negoziato a livello politico vuol dire metterlo dove doveva essere e dove il governo greco voleva. Però la quadra non si trova ancora e anche nelle cancellerie europee non si naviga in acque tranquille, vista la crescente soddisfazione di molti esponenti della maggioranza di governi in Germania per come Angela Merkel sta conducendo i negoziati, spinta anche dagli Stati Uniti a trovare una soluzione in tempi rapidi che permetta ad Atene di restare nell'euro e di avere il fiato per ripartire, nell'interesse suo dell'eurozona, dell'Europa e anche degli alleati americani. Mesi di trattative, riunioni, discussioni e votazioni per poi arrivare a un nulla di fatto. Il Parlamento di Strasburgo ha deciso all'ultimo secondo di sospendere il voto in plenaria sul TTIP, il trattato di libero scambio tra Stati Uniti ed Europa. Il motivo? Le divisioni, soprattutto all'interno del PSE, sulla questione dell'ISDS, gli arbitrati tra investitori stranieri e Stato. Nella relazione scritta dalla socialista Lange e votata in commissione la settimana scorsa, la loro abolizione, come concordato con i popolari, non veniva esplicitamente auspicata. Ma le proteste all'interno degli stessi socialisti, che si sono spaccati in due, hanno costretto Lange a proporre un emendamento alla propria relazione. Il risultato dell'interno del comitato è chiaramente chiaro che la risultazione di ISDS privata è morta. E potrebbe essere la migliore soluzione, non la parla di direttamente in l'interno del comitato. L'emendamento però ha fatto saltare tutti gli equilibri raggiunti con difficoltà negli ultimi mesi e con essi è saltata anche la votazione in aula che il presidente Schulz ha deciso di rimandare, per paura che il testo sul TTIP venisse bocciato nel suo insieme. E oltre alla votazione è stato rimandato anche il dibattito sul tema, scatenando le vibranti proteste dell'opposizione. Il testo torna dunque sul tavolo dei negoziati, ma la trattativa non sarà affatto semplice. 61 delegazioni, fra cui una quarantina di capi di Stato, in rappresentanza di più di un miliardo di persone. Sono questi i numeri impressionanti che stanno dietro al summit internazionale che questa settimana ha riunito attorno a un tavolo gli uomini più potenti dell'Unione Europea e della SELAC, la comunità di stati latinoamericani e dei Caraibi. Mentre a Strasburgo il Parlamento Europeo si spaccava a causa del TTIP, il partenariato commerciale con gli Stati Uniti, a Bruxelles si è cercato di affermare che dall'altra parte dell'Atlantico il mondo non è solo a stelle strisce. Commercio d'economia dunque, ma non solo. Il testo finale, partorito dall'Assemblea USLAC, parla di un impegno congiunto per rafforzare il dialogo politico, soprattutto su temi cruciali come la lotta al cambiamento climatico, e poi modernizzare i legami fra le due regioni e dare vita a un nuovo modello di cooperazione più bilanciato e meno paternalistico. Impegni ambiziosi, che per l'Unione Europea si sono tradotti in uno stanziamento totale di oltre 800 milioni di euro. A fronte di un grande investimento finanziario, però, l'Unione è riuscita a defilarsi sugli argomenti più spinosi. Aún queda por extirpar il inhumano e ilegal blocchio e la devoluzione del territorio occupato di Guantanamo, uno dei dei rezaghi di colonialismo in nostra America. Rechaziamo e demandiamo la derogatoria della ordine ejecutiva emitita per il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, imponendo sancioni unilaterali a Venezuela, per supostamente constituir un peligro a la Segurità Nacional degli Stati Uniti. Ribadiamo il nostro impegno per una risoluzione pacifica delle dispute territoriali e prendiamo atto della dichiarazione della SELAC su Venezuela, hanno scritto i capi di governo, dannosi appuntamento al 2017. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS